Marco Giovannetti per Paolo, Dodò quando lo vedremo finalmente in campo? Mamma mia ce l'hai una domanda di riserva? No perché non c'è un guardalacchi, posso chiedere di Bentner, quindi devi rispondere tu su Dodò Guarda, è un po' gelato l'ambiente, come dire, il commento di Zeeman che ha detto che secondo lui addirittura è al 50% di quello che è il potenziale di un giocatore che deve fare la Serie A c'era dato in grande crescita e quindi quando ci sono queste questioni qua come ridicozioni di questo tipo io credo che dobbiamo essere molto molto prudenti a questo punto seguendo le parole di Zeeman credo che ci vorrà almeno un mesetto minimo per vederlo protagonista